Ciao, eccomi finalmente tornata con un nuovo video, non sarò incentrata sul mio viso perché oggi sono completamente struccata e sfatta come sempre ultimamente ma come avrete letto dal titolo sto per mostrarvi cosa ho comprato ieri da OBS volevo però ecco farvi un saluto anche di persona, altrimenti tra video spesa, what it in a day non ci vediamo più, invece ecco ci sono e sì, un po' sfatta, potevo darmi una sistemata ma ormai io ve lo dico sempre, siamo un gruppo di amiche e amici e quindi insomma tra amici si fa così, ecco perché uno si deve presentare per quello che non è, sto in tuta, casalinga, sto cucinando e mentre il cibo si cucina, la cena si cucina, ho deciso di mostrarvi i miei acquisti, quindi non mi perdo in chiacchiere 3, 2, 1, vediamo cosa ho comprato allora partiamo subito con il primo acquisto che poi in realtà diventa anche il secondo ho preso questa matita della Essence, la Long Lasting Eye Pencil numero 29 Berry Fantastic è di quelle appunto che hanno, ecco così, la matita la girate e esce la punta sono diciamo la tipologia di matita che mi piace di più perché ormai odio temperare le matite perché nel 90% dei casi o le tempero male o il temperino che funziona male quindi poi le vado a rovinare comunque il colore è questo, so che dalla videocamera falsa moltissimo ma in realtà è un bellissimo borgogna un bordeaux scuro e mi piace molto perché io ho gli occhi marroni e diciamo che riesce a tirare fuori un pelino del verde che ho dei miei occhi e ho deciso di acquistarne due proprio perché trovo spesso difficoltà a trovare proprio questa tipologia di colori per gli occhi infatti ho detto no, non è possibile, sarà per gli occhi, poi ho letto i pensi e l'ho detto ok perché mi sono sbagliata più volte, ho preso quella per le labbra e non va bene e ho comunque trovato matite che non erano così belle invece ecco questa mi piace davvero tantissimo passiamo al prossimo acquisto, è sempre della essence ed è un mascara, si chiama Inida Miracle la confezione è da 16 ml e l'ho pagato 4,50 euro se non erro, lo stavo cercando da tempo, non c'era mai quando l'ho visto ho detto ok lo prendo e lo proverò sicuramente con voi è un mascara che promette un volume miracoloso, lo vedremo insieme e adesso vi faccio vedere lo scovolino questo quindi è lo scovolino, lo vedete è abbastanza cicciottello rimane un po' più fino nella parte centrale mentre invece la parte iniziale e la parte finale sono un po' più diciamo cicciottellini e più grandi quindi poi vi farò vedere comunque l'applicazione non so io prediligo di solito appunto le mascara che hanno questo genere di scovolino molto più grande con quelli un po' più fini non mi ci trovo ma poi faremo la quick review insieme insomma vi dirò ho delle grandissime aspettative da questo mascara passiamo ora al pezzo forte, lo vedete ne ho preso un bel po', sono delle maschere la prima che vi mostro è del marchio Shaka ed è una maschera per piedi leviganti con burro di karité stavo leggendo dietro la confezione da 16 ml che va lasciata in posa per 20 minuti poi di questa ve ne parlerò comunque come se fossero dei calzini che si indossano per 20 minuti e dovrebbero insomma aiutare i nostri, anzi i miei piedozzi, piedi ciccioni come li chiama Andrea insomma essere un po' più levigati e nutriti, poi ve ne parlerò meglio altra maschera marchio Clay Mask dovrebbe essere Made in Italy, stavo leggendo qui indietro dalla Union Cosmetics è prodotta comunque la confezione è da 30 ml ed è una maschera viso argilla con effetto tonificante mi piace molto il fatto che abbia l'apertura richiudibile quindi insomma che si possa andare a richiudere come sempre io quasi tutte le maschere le utilizzo in più volte quindi ecco non faccio un solo utilizzo però ecco il fatto che abbia l'apertura e la chiusura mi piace molto e questa l'ho pagata mi sembra 1,99 euro o 2,99 euro ho preso ben due maschere del marchio L'Action Paris che non ho mai provato, fatemi sapere se l'avete provata comunque la prima è una maschera rivitalizzante e idratante va tenuta in posa per 12 anche 15 minuti stavo leggendo prima e contiene oli essenziali e agrumi e la confezione è da 15 grammi considerate che è venuta intorno ai 2 euro l'altra invece è un po' più particolare non è cremosa come le altre che ho comprato ma è polverosa di fatti va creata è una maschera che dona appunto luminosità al viso io cerco sempre magari nelle maschere il termine nutrimento idratazione, luminosità, anti-age sicuramente e va appunto creata quindi c'è la polverina al suo interno bastano 3 cucchiai di acqua va tenuta in posa per 10-15 minuti e poi va risciacquata questa la proveremo insieme è una di quelle che mi incuriosisce di più e le ultime due maschere che vi mostro le conoscerete già sono della Seven Heaven non le compravo da anni ho deciso di ricomprarle la prima è la Chocolate Mood questa l'amavo per anni e anni l'ho utilizzata poi l'ho un po' lasciata andare invece adesso voglio riutilizzarla è cremosa quindi non parliamo di maschere in tessuto la confezione è da 20 grammi questa è la cioccolata è ricca di ingredienti naturali serve appunto per effettuare una pulizia profonda del viso ci sono all'interno i sali del mar morto sa di cioccolata è qualcosa di pazzesco ed è venuta a 1,99 euro e l'altra invece è all'olio vergine di oliva in realtà qui c'è scritto che è al fango all'olio vergine di oliva spremuto a freddo va tenuta in posa anch'essa per 15 minuti e poi insomma vi farò sapere però so già che queste maschere mi piaceranno troppo vi farò delle quick review con queste maschere e la prima che proveremo insieme sicuramente sarà questa perché è quella che mi incuriosisce di più pensavo di aver finito invece no ho preso anche il mio amatissimo deodorante DAV questo me l'avete consigliato voi in un video dei prodotti terminati si chiama Go Fresh ed ha all'interno cetriolo e tè verde ok ho girato la videocamera quindi sono di nuovo qui siamo arrivati alla fine del video questi sono gli acquisti che ho fatto come vi dicevo prima faremo insieme delle quick review sia sulle maschere quello che diciamo mi incuriosisce di più è provare il mascara della essence quindi aspettatevi delle quick review anzi se avete magari dei negozi da consigliarmi o delle maschere da consigliarmi anche su internet scrivetemi qui sotto soprattutto per quanto riguarda le maschere lo sapete io ormai ho una specie di non so ossessione da maschere pensavo di avere l'ossessione solo per le maschere in tessuto invece insomma mi è venuta anche per le maschere sia polverose che cremose quindi scrivetemi qui sotto le vostre maschere preferite perché magari le compro e le testo o le testiamo insieme scrivetemi la vostra esperienza ora smetto di parlare vi mando un bacione grandissimo se vi va mettete un bel like a questo video e iscrivetevi noi ci vediamo qui sul canale al prossimo video e ne girerò uno a settimana perché ve l'ho promesso un bacio e non dimenticate che a breve ci sarà un nuovo giveaway proprio qui ciao a tutti ciao 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 ciao